Bella a tutti ragazzi, benvenuti a questo specialissimo video, io sono Xyuder, è un po' che non registravo un video per voi ma ho trovato un ritaglio di tempo e voglio farvi vedere come si fa la skin su Fortnite completamente bianca, visto che me lo chiedete ogni giorno in live. Ci spostiamo subito sul nostro overlay e infatti come potete vedere la skin sembra completamente bianca ma è leggermente bicolor, è una cosa abbastanza impercettibile. Cominciamo subito, un bel like prima però al video, dai raga un bel pollicione in su, andiamo a vederlo. Armadietto, la skin in questione è polarità, la trovate nel set dei supereroi, quindi mi raccomando polarità importantissimo. Da qui andiamo su modifica stile, ok, stile numero uno, modello tuta intrepido, quindi il primo, sotto stile testa, l'ultima voce, maschera, occhi, no. Casella numero due, stile primario tuta, il materiale primario stoffa, ok, il colore primario platino che sarebbe il secondo colore in alto da sinistra. Qui abbiamo finito, ottone numero tre, materiale secondario spandex, colore secondario platino, ottone numero quattro, colore accessorio platino, ottone numero cinque, effetto occhi, sì. Perché metto gli effetto occhi? Perché dicono che se si mette no, alcuni giocatori con delle impostazioni grafiche particolari possono vedere un bordino verde intorno alla skin. Io non ho mai avuto questo problema, mi è stato detto che potrebbe succedere. Quindi effetto occhi, sì, colore degli occhi, platino. Penultimo bottone, colore tinta della pelle, mettiamo sulla X, quindi niente. Colore tinta capelli, mettiamo sulla X, quindi niente. Ultimo bottone, sticker, nessuno. E questo, ragazzi, è lo stile totally white della nostra skin, come la utilizzo io. Spero che questo video vi sia servito, vi sia piaciuto. Un bel pollicione in su, mi trovate ogni giorno in live sulla piattaforma viola e ci vediamo presto. Dai!